E' ufficialmente nata l'APTS, l'Agenzia per il Turismo Sostenibile, creata con l'obiettivo di dare nuovo slancio alle vacanze legate al benessere che vedono il Comune di Popoli Terme al centro del progetto. La giornata è iniziata al mattino con un importante convegno sulla sostenibilità come leva competitiva per le aziende ed è proseguita nel pomeriggio con un incontro istituzionale in cui sono state illustrate le attività dell'APTS. Sentiamo l'amministratore unico dell'Agenzia Benigno d'Arazio. Un sistema di turismo che vorremmo in qualche modo diffondere un po' in tutta la regione anche in termini di accoglienza, un progetto che nasce da tempo e che grazie ai fondi di costruzione, grazie al partenariato col Comune di Popoli siamo riusciti a realizzare in tempi veramente stringenti. Ecco qui siamo a Popoli Terme, visto che ha cambiato nome questo Comune. A questa agenzia già in tanti hanno aderito, non soltanto le amministrazioni. Beh sì, abbiamo 62 parti di collaborazione con enti, associazioni, comuni. Veramente è un successo che va al di là di ogni più rosa e aspettativa e che ci grava di una responsabilità enorme di non deludere coloro che ci hanno dato fiducia sin dall'inizio, coinvolgendogli in questo percorso gestionale. In questo senso abbiamo già previsto una newsletter che manderemo a tutti e in cui racconteremo le nostre esperienze e promuoveremo anche gli angoli più reconditi di questa nostra regione. L'importante per noi è soprattutto guardare ai piccoli comuni. quello è importantissimo perché magari non hanno gli strumenti e i mezzi per fare un'adeguata promozione e noi vorremmo aiutarli a farla.